Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Una giornata infernale. Alla fine ci siamo trovati accerchiati dal fuoco da tutte le parti. E qua, come puoi vedere, le sale di lavorazione sono tutte distrutte. Non so che tempi avremo. L'epicentro dell'emergenza in Sicilia si è spostato qui, ad Ascicatena. L'azienda di Luciano produce confezione in salate e verdure. L'incendio di due giorni fa l'ha distrutta. Ho paura che non sia un fatto episodico ma che sia un fatto strutturale. Perché le reti sono ormai insufficienti, le reti elettriche sono insufficienti a sopportare i fabbisogni che ci sono. Il problema delle temperature sarà un problema non episodico perché si presenterà, secondo me, spesso. Quindi dovremmo abituarci a convivere con questo. Al di là degli incendi, qui si fanno ancora i conti con la mancanza di luce e di acqua. Abbiamo iniziato da giovedì, venerdì, l'altro della scorsa settimana. E ancora oggi io ho tutto il paese senza energia elettrica. E io ho una città con 50 gradi, senza acqua, senza energia. È la zona in cui non potevano stare le persone che erano disabili. Ci abbiamo pensato noi. Pronto? Sì, Croce Rossa. Siamo qua sotto? Già sono 24 ore che siamo senza luce. E poi avviene 10 minuti, i giorni scorsi, poi se ne va. Giovanni è disabile, affetto da poliomelite e si sposta con difficoltà. Ha affidato alla Croce Rossa alcuni medicinali da tenere in frigo perché da giorni è senza luce. Io senza motorino elettrico, senza energia non lo posso caricare e resto prigioniero a casa. Da quanti giorni non lo carica? Ma sarà una settimana. Queste sono tutte le mie difficoltà giornaliere. I farmaci di Giovanni vengono portati qui, al centro operativo comunale, dove l'energia elettrica è garantita da un gruppo elettrogeno e dove hanno trovato il refrigerio, i più fragili. Sono senza luce e senza acqua. Adesso c'è un caldo pazzesco. Ieri eravamo tutti contornati dal fuoco. Se potevo venire almeno a rinfrescare un po' perché non si può stare.